Le ultime dichiarazioni del prefetto che consigliavano l'installazione delle cammere da parte del Comune sul nostro territorio dobbiamo riscontrarle positivamente, atteso che ne abbiamo già installate 22 e dentro giugno, grazie a dei fondi ministeriali che abbiamo ottenuto, oltre 100 mila euro, ne verranno installate altre 32 che riguarderanno soprattutto i parchi. Quindi riteniamo che l'amministrazione Bandechi stia facendo la sua parte, al di là del discorso delle guardie giurali della SECUR, quello che rappresentano la ramificazione di studi che sta facendo l'Università Niccolò Cusano. Magari potrebbero essere impiegati in modo adeguato, convocando quel tavolo, quel comitato per l'ordine della sicurezza di cui abbiamo fatto richiesta dal 31 agosto. Se così fosse, credo che effettivamente le cose potrebbero migliorare.